dove siamo? Siamo dove dovevamo essere rispetto a una comunicazione fatta da circa dieci giorni sia attraverso Campania Felix, attraverso dei volantini, sui social e quant'altro per vedere quest'alba noi siamo qui dalle 5 meno un quarto, siamo da soli però noi dovevamo abbattere un muro perché l'anno scorso ci fu negato di fare vedere Ercolano come Stonehenge quest'anno dobbiamo ringraziare il sindaco che sicuramente a nome di tutta la sua amministrazione ma anche della città ci ha permesso un patrocinio avuto anche dal Parco Nazionale del Vesuvio e dalle ville vesuviane c'è stata poca sensibilità ma noi siamo felici perché partiamo adesso infatti il programma è 21-22 giugno 2019, 21-22 giugno 2020 che cosa? Perché abbiamo detto un momento emozionale, noi l'abbiamo vissuto vogliamo una Campania più Felix, perché come Stonehenge? Perché a Stonehenge corrono tante tante persone di tutto il mondo quindi noi ci prepariamo al 2020 abbiamo istituito con la Flegrea Foto un bellissimo concorso fotografico dal tema il riscatto in uno scatto perché questa città è bellissima ma è sempre un po' tormentata tant'è che tante persone non hanno sentito il bisogno, la necessità o magari l'orgoglio di essere con noi a vedere quello che dalle 5 meno qualcosa Raffaele farà vedere che cosa è stato ripreso però una cosa che ci teniamo è ribadire e riaffermare una lettera che abbiamo fatto al Papa perché lui ieri è stato qui ha parlato lì presso i Gesuiti la sua pastorale non finisce mai di chiedere il bene comune di riconquistare la pace tra le persone e noi il nostro bisogno è quello di avergli chiesto di poter essere con noi uno di questi giorni tra il 2019 e il 2020 per stare lì in quel momento che allo scatto dell'eruzione del Vesuvio la città si fermò ci stanno degli scheletri tra i quali ci sono sicuramente dei cristiani perché parliamo di 79 dopo Cristo e quindi la nostra iniziativa vuole far fare sì che ci sia una sua benedizione perché lui è un grande buon pastore questa è stata la nostra richiesta noi aspettiamo lui ma aspettiamo che questa città si riscatti da sola perché quella grazie all'Institut Humanitas Packard oggi è un fiore all'occhiello del parco archeologico la città perimetrale quella moderna deve diventare più ospitale più aperta e più accogliente noi combatteremo insieme a coloro che hanno detto di darci una mano stamattina siamo soli ma noi siamo felici perché ancora fra qualche minuto il sole farà capolino siamo lì su quella bellissima montagna che è stata creatore e non sterminatore lasciandoci un pozzo di cultura quali sono gli scavi noi insisteremo continueremo a lavorare fermamente per questa città quindi siamo qui per due motivi intanto per il pane della nostra terra le albicocche della nostra terra il pane continua e secondo me anche il pane dovrebbe costare di più perché il miglior pane del mondo è stato nella città di Ercolano le albicocche era una provocazione ed è una provocazione noi riusciremo a mangiarle siamo in pochi sono io, tu e l'agricoltore ma questa voleva essere anche una provocazione in quanto le industrie le prendono a 4 centesimi motivi per i quali le nostre rimangono sulle piante e poi queste albicocche spesso vengono dalle altre nazioni perché lì costano molto di meno come dobbiamo fare per portare avanti le nostre eccellenze a chi lo dobbiamo dire tutto questo? poveri agricoltori della nostra Italia il pane adesso lo mangiamo come io mangerò un albicocca Salvatore che sapore? sono vesuviani Salvatore invece dici cosa vuol dire avere dei terreni avere una storia, una tradizione ed invece vedere tante generazioni soffrire per l'incapacità di valutare un prodotto naturale meraviglioso allora io sono giovane e sono legato al mio territorio perciò non vado via da questo territorio però sentendo queste situazioni di prezzi che non riescono a farci emergere siamo costretti ad andare via però noi abbiamo dei territori che sono eccezionali che il mondo ci invidia il Vesuvio, il mare, i nostri terreni che ci permettono di fare delle culture eccezionali e dei sapori che solo noi abbiamo